L'anno scorso Ciccio Taker 89 ha risuscitato Bud Spencer dall'inferno e adesso Bud il picchiatore qua in FCW e andrà uno contro uno contro il simbolo della nostra federazione contro una delle leggende viventi della FCW Matteo Montesi il profeta e questo match è next Direttamente dall'aldilà è tornato Bud Spencer che l'anno scorso dopo essere stato evocato da quell'imbroglione da quella feccia di Ciccio Taker ha picchiato a sangue il ceccione e adesso sta facendo la sua strada verso il ring per affrontare la leggenda della FCW Eccolo qua, chissà se Don Matteo o Terence Hill arriverà mai in FCW però vi dico solo questo amici sportivi, restate in attesa perché prossima settimana Debuto YouTube anche io in FCW Eccolo Bud che si guarda intorno e dice Wow, è bello essere tornati nel mondo dei video È bello, sì sì, mi piace Ma adesso è giunto il momento Bud Spencer sa quello che sta andando incontro Ma arriva lui Eccolo qua amici sportivi Matteo Montesi Il profeta di Castelfidardo Che alza le mani al cielo Il più amato qua in FCW Assolutamente Uno degli atleti più adorati dal pubblico Ne ha viste veramente di tutte È stato campione del Gran Ducato di Toscana Fa parte della famiglia dei tre cugini Ed eccolo qua che monta sul ring Ed è pronto a sfidare la grande minaccia di Bud Spencer Guarda intorno E adora E sui pox Eccolo qua DING 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 Il match parte subito con Bud Spencer Che prende il profeta Lo scarabè da terra con un powerslap Montesi dice Tu non sai cosa c'è che fare Joe Breaker Oh my god Back body drop E questa fine sta guarda Piedone Piedone Degito E boom Un altro piedone sul petto di Matteo Montesi Irish whip Bud Spencer in difficoltà Montesi Oh my god A swirling backbreaker Spoon Un uppercut europeo da parte di Matteo Montesi Ma niente da fare Non riesce a buttare giù il gigante Ora spinge via E via di Joe Breaker Oh Swinging neckbreaker da parte del profeta Matteo Prende Bud Spencer e tira un cazzote in faccia Oh my god Che atto di forza Wow E via che fa leva sul ginocchio del nostro profeta Marchigiano Lo solleva E inalza a volta Joe Breaker Lì che Matteo Montesi dice Non riesco a buttarti giù con attacchi Io ti butto giù Con le mose Alla tua Al tuo mento Ah la testata La capocciata Un altro cazzato Oh my god Una serie di colpi Che botte Che botte Swinging neckbreaker E via che se ne va giù il nostro Bud Spencer che però schiva l'attacco di Montesi Non porta al centro del ring E rush a legge Lo sgambetto russo Guardate come dominate Vincere di stare giù Fatto scazzottate tutta la sua vita Bud Spencer con Terence Hill in tutti i film Mangia fagioli Oh my god Ah Gomitata Irish whip Bud Spencer Finisce for the ring Wow Montesi Iiii Iiii Che dolore Alla gamba Spencer Back body drop Wow Una serie di scambi Di controllo Che controllo Incredibile E niente Spencer adesso torna sul ring Matteo Montesi la strazza Dice Eh Dalli purificare La domanda Da satana Dal diavolo E di nuovo Di nuovo Si tenta di Affossare Sulle parti che reggono Il grande corpo Oh my god Prova a chiudere One Two E cosa vuoi fare Guarda come si rialza subito Oh wow Che colpo in faccia Che cazzotto Che li ha tirato A Matteo Montesi E prova a chiudere One Two Oh Per un attimo Ho detto che il profeta Sarebbe spacciato Aia Questo ha fatto molto male Lo boot In terra Il profeta di Castelfinardo Che forse sta caricando La torre Che c'è un figlio No No Latch up One Two Ah E Matteo Montesi ha sulla spalla In contegia Si interrompe E' stata più facile Ecco il ciccio Taker Wow Un suplex invertito Da parte di Bud Spencer Su Matteo Montesi Adesso prova il piedone Oh Non riesce a fare Niente Montesi Guarda Sei incantato Un cazzotto in faccia Irish whip E bade all'angolo Oh Wow Incredibile Unbelievable Montesi Tenta di fare leva Sugli arti di Bud Spencer Lo butta all'angolo Lo gira Cosa vuole fare? Eh no Adesso ci sei tu Oh no Un'altra chop in testa La mossa finale di Bud Spencer Che adesso va Allo schieramento Amici sportivi One Two Oh Montesi ancora tra noi Aia Adesso un pochino meno Ma comunque E' ancora tra noi Oh my god La brutta Littà di Bud Spencer Che brawler Che risaiolo Via Snapner E' gomitata in faccia Montesi Montesi Li prende il volante Nell'incontro E ci prova No niente da fare Un attestato da parte Del risaiolo E via 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 Si trova sull'apron Montesi Prende Bud Spencer Per la testa Lo gira Prova Una neckbreaker Boom E questa l'ha sentita Può essere grosso Quanto ti pare Stai attento Matteo Stai attento Non esultare Mentre lui si rialza Ok Sei pericolo qua E vedi che succede Poi Face Buster E lo rialza subito Non è ancora finita Via Chinlock Dice Tu sei ciccione Tu mangi Ok Allora io ti spacco La mascella Via Tu non mangi più adesso Tu non mangi più Io che combatto Il demonio Tutte le lotte che mangio Mastico Faccio versi Guardo verso Oh no Oh no Oh my god Prova una gorilla Brat slap E metti in verte One Two Oh Il grande ritorno Della FCW Via E sta giù Cerca di domarlo Come si dominerebbe Un orso Oh Wow Chi vencerà questa sfida Irish whip Montesi si mette all'angolo Wow Netbreaker Uno con il cartello WWE Rocks Come si permette Con la FCW Attenzione Attenzione Un arm Bar finita male Chi avarticolare al braccio Boom Tutti tu dai cazzotti Ti doi un kill Oh wow Un German suplex Incredibile Unm Parcony Not down on taser fly Net down the corner Corrie Boom Unbelievable Prova was getting me to one niente da fare ancora non ci siamo ancora cosa deve fare Matteo Bortesi per sconfiggere Matt Spencer oh my god la ciomp la ciomp in testa e va a chiudere oh no 1, 2, 3 Matt Spencer batte Matteo Bortesi che sciocca amici sportivi il brawler risaiolo Matt Spencer sconfigge uno dei disibili dell'FCW Matteo Bortesi è stato sconfitto il suo match di ritorno dell'FCW, Matt Spencer continua a dominare la federazione ma adesso è il momento del main event